Buongiorno di nuovo, è difficile spiegarvi quanto sono sempre felice e contento quando sono qui con noi e quale privilegio che il Signore gli dà e, sotto l'autorità delle chiesse locale, il poter condividere la parola di Dio, che è un grande responsabile di Dio, sia per chi la rispone e chi la riceve. Dunque vogliamo aprire i nostri cuori che siano carati allo Spirito Santo affinché la parola di Dio trasformi, ci cambi sempre più nell'immagine del suo figlio e questo è la parola del Signore. Dunque vogliamo un attimo chinare le nostre teste e chiedere la benedizione del Signore suo, l'ascolto e la benedizione della parola. Signore Dio vogliamo ringraziarti per questo dono di poterci accostarci per cercare il tuo volto nella tua parola e siamo certi, Signore, tu che sei un Padre benevolo che dai cose buone ai figli che te lo chiedono nel nome del figlio di Gesù, che tu ci darai cose buone oggi, e queste cose non prevengono dalla capacità di un uomo né il Signore da una denominazione, ma vengono dietro la potenza della tua parola e ti prego che in questo momento tutti insieme siamo di una sola mente con lo Spirito, Signore, affinché il Signore possiamo accoglierla e possiamo, Signore, crescere per diventare sempre di più come tu desideri che i tuoi figli siano. Ma tutto questo lo facciamo e te lo chiediamo per la tua gloria e in Cristo te lo preghiamo. Amen. Allora, il caso su cui pregherò questa mattina è in Isaia, capitolo 8, versetto 12, versetto 13. Isaia 8, versetto 12 e versetto 13. La parola dice non chiamate con giura tutto ciò che questo popolo chiama con giura. Non temete ciò che esso teme e non rispaventate. Santificate il Signore dei riservi sia a lui quello per cui provate timore e paura. Amen. Durante la seconda guerra mondiale un'autorità militare andò dal famoso generale Tacon che è stato in Sicilia e quando ricordò che vide il generale lo elogiò e diceva che il generale è un uomo molto coraggioso, è un uomo veramente senza paura, è un generale unico. Ma il generale gli rispose e gli dice il Signore guarda che la verità è questa, io sono un codardo, un generale di quella dimensione, di quel caldo, io sono un codato, ogni volta che c'è sento uno sparo o c'è una sto per entrare in guerra, io comincio a studare, vado in ansia. E anni dopo il generale scrisse un'autobiografia e la autobiografia disse io ho imparato tante cose nella vita, ma una delle cose più importanti che ho imparato proprio negli primi anni della mia vita è di non fare la paura il mio consigliere, perché le paure non sono buone consiglieri. Nel contesto di ciò che abbiamo letto oggi, per questa ora, il profeta Isaia era stato mandato da parte di Dio al popolo di Israele, in particolare Giuda, perché Dio stava per mandare contro Israele un popolo feroce, gli Assini, gli Assini erano famosi per la loro ferocità, come l'Isis, perché il popolo di Israele aveva abbandonato la vera religione, aveva abbandonato la comunità con Dio e aveva introdotto nella propria religione radici, abominevoli, pagani, idolatrie, cose che il Signore detestava e il Signore aveva detto basta, adesso proprio basta che avrebbe mandato questo esercito. Questa abominazione religiosa aveva creato una corruzione sociale, perché una società viene condizionata anche dalla sua religione. Il popolo di Dio aveva abbandonato il Signore. Erano persone religiose, erano persone che all'apparenza esercitavano la religione, ma non era la religione che Dio aveva prescritta al suo popolo. E ciò che mi vorrei soffermare oggi non su il castigo di Dio, perché il popolo era in agoscia, era ansioso. Cosa facevano? I leaders si radunavano, provavano a trovare delle soluzioni per affrontare questa invasione che stava proprio per colpirli, perché erano circolari, erano a momenti che questo esercito sarebbe entrato. E allora i capi, i capi religiosi, le autorità, cosa facevano? Si facevano intrallazzi tra di loro. Vediamo che noi possiamo risolvere questo problema. Ma Dio mandò a loro un salvagento di misericordia e gli diceva a loro, quanto è che voi non dovete avere paura, non dovete avere paura. Avete fede in me, abbiate fiducia in me, ma loro lo rifiutavano e optavano per le loro soluzioni umane. E lo vediamo anche nella nostra società oggi, con tanti pericoli, tante cose brutte che succedono. E noi vediamo in telegiornali di politici che provano a risolvere il problema, intrallazzi che fanno per di loro, invece di rifugiarsi in Dio, che promette prosperità, volontà, giustizia del mondo. Dio dice praticamente a loro, se avete fede in me, non dovete vivere in paura. C'è la mia benedizione su voi. Ora, la paura non è una cosa buona. E non è cosa buona farsi consigliare dalla paura. Perché la paura, che cosa fa? Ci porta a avere sempre ansia, ci porta a avere manifestazioni fisi. La paura non ci fa perdere. Per esempio, le persone hanno paura di il male che potrebbe capitare. Tutto il male che potrebbe capitare. Hanno paura di perderlo. Le persone hanno paura di non trovare. Le persone hanno paura del domani. Le persone hanno paura che il loro matrimonio non durerà. Le persone hanno paura di malattie. Le persone hanno paura della solitudine, della vecchiaia. Hanno paura dei nemici, di quello che le persone pensano contro di noi. Hanno paura di come sta andando questo mondo. Ora, queste cose succedono. Non è questo un evangelio della prosperità. Queste cose succedono. Ci sono cose che succedono, che vanno male nel mondo. Perché? Perché viviamo in un mondo caduto. È la conseguenza del peccato. Però, grazie a Dio, che noi ci tiriamo un salvagente di misericordia, che è la fede, per affrontare queste paure. Perché se le nostre paure diventano i nostri consiglieri, è un indicatore che noi siamo mossi dalla paura, invece che essere mossi dalla fede e nei promessi di Dio. Io posso scegliere di vivere con la paura, o posso scegliere di vivere nelle promesse che il mio padre ce l'esse fa. Vi rivelate nella sua parola. E malgrado quello che succede, dovesse succedere quello che temiamo, ricordiamoci, il Signore ci lo permette per i nostri beni e nella sua soprana volontà. Ha uno scopo per questo. La domanda che vorrei fare oggi, cari fratelli e sorelle e anche bambini, ok, giovanotti, è questo. Tu agisci nella tua vita, mosso secondo la paura, o agisci secondo il mosso dalla fede. Quando la paura bussa alla porta della tua testa, scegli di cacciarla via, non farla entrare con le promesse di Dio, o l'accoglie dentro casa tua, con tutte le conseguenze che porterà. Sappiamo che i nostri corpi sono bombardati quotidianamente da cose dall'esterno che ci fanno male. Onde elettromagnetiche, dalle telefonini, lo smog, i veleni che respiriamo nell'aria, ciò che mangiamo contengono spesso questi cibi. Queste cose sono cose negative che ci bombardano. Poi ci sono anche delle cose che provengono da dentro di noi che ci fanno male. A volte esperienze brutte che abbiamo avuto nella vita, traumi sia fisici, traumi emotivi, sono cose che ci creano delle sofferenze. E similmente anche le nostre menti vengono bombardate da cose nocive. C'è il televisore, paura della pensione, che pensione avrò con questa roba vecchia? Ce l'avrò la pensione, no? No, 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 no. I sbarchi che stanno avvenendo, morbillo, meningite, coriomeolite, mucca pazza, olo pazzo, tutti pazzi, no? È, 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 è negatività che ci viene messo nella nostra mente, che aumenta, vuole farci vivere secondo quella paura. Le guerre, le violenze, le sicurezze nelle proprie case, burrismo, catastrofi, sono cose ovviamente che bombano e bussano alla nostra porta della mente. E la paura e la fede hanno tutte e due però una cosa in comune. Tutte e due portano a credere in qualche cosa che noi non vediamo. Sia la paura e la fede hanno una cosa in comune. Ci portano a credere in qualche cosa che tu non vedi. La paura dice, oh, questi dolori che sto avendo nel fianco, sai, questi sono gli stessi dolori che aveva mia nonna quando si può correre un tumore, no? La fede, invece, risponde, aspetta, questo dolore è concurabile, perché anche se dovesse essere quello che è, Dio si rinderà un corpo nuovo. La paura dice, ah, i miei figli non ci conferiranno mai, non troveranno sposi credenti, la fatuta generazione sarà abbandonata. Cosa succederà? Questo è quello che ci dice la paura. Ma la parola dice quello che dice nel Saulo 103. La benignità dell'Eterno dura l'eternità in eternità per quelli che lo temono e la sua giustizia per i figli dei figli. Noi contrastiamo, invece, la paura con la parola di Dio, con la fede. La paura dice, io non troverò lavoro, il lavoro scarseggio. E cosa farò se perdo il mio posto di lavoro? La fede, invece, risponde, Dio ha promesso di provvedere ad ogni mio bisogno nel modo perfetto. La paura dice, quando sarò vecchio, come farò? Non avrò una pensione, come andrò avanti? Di pochi risparmi, però, cari mercato, perdo tutto. Salmo 47, cosa dice? Ormai sono divenuto vecchio e non ho visto mai il giusto abbandonato nella sua discendenza medica a risparmi. La paura dice, io ho passato troppe cose brutte nella mia vita. Ho commesso troppi errori nella mia vita. Ormai è troppo tardi. Che posso fare per rimediare e pregare la situazione? Per migliorarlo? Non potrò mai essere felice, veramente. Ma la fede, che cosa dice? Grazie a Gesù i miei giorni migliori che devono ancora avvenire. La paura è avere fede nella direzione sbagliata. Puoi usare la fede in un modo positivo o puoi usare la fede in un modo negativo. Se tu pensi ripetutamente su una cosa che ti mette paura, giorno dopo giorno, mese dopo mese, quella paura prenderà radice nella tua vita, nel tuo soccorso e anche il tuo fisico ne soffrirà di questo. Giordi disse, capitolo 3, 25, non appena tengo un male, questo mi colpisce e quel che mi spaventa mi piomba addosso. Avete sentito mai o visto mai queste persone, conoscete mai le persone ipocondrieci, no? Che loro pensano a quel male e manifestano i simili. Noi avevamo un amico, un fratello in comune. Io e Nando? Sì, sì. Ok. Nando, ve lo ricordo. Nando è stato male e avevano vi aggnosticato la semilità precoce che non era quello che aveva. Giorno dopo, lo vedo, si era messo un scofola, preso un bastone e ha cominciato a fare la parte della persona. perché? Perché ha creduto in quella cosa. Quello che noi non vogliamo fare, cari fratelli e sorelle, è permettere in uno spirito di paura di dare il diritto di entrare nella nostra vita, nella nostra mente, perché produrrà effetti negativi. E, come ho detto prima, la realtà è che, se veramente dovesse succedere quello che noi temiamo, Dio lo permette. C'è una ragione per cui quello sta facendo. Per fortificarci nella sua grazia. Perché noi siamo forti quando siamo deboli. È lì dove si mostra la potenza di Dio. Quando non possiamo più. Quando non sono più io, ma sei tu. Ricordiamoci, la parola del Signore dice che il Signore corregge quelli che Egli ama. La paura vorrebbe dominare la tua mente. Però, con l'aiuto dello Spirito Santo e la parola del Signore, possiamo imparare e disciplinare la nostra mente per agire in un modo diverso, per contrastare la paura con la fede. Prima di tutto, bisogna essere nella vera fede. Come si ottiene la vera fede? Beh, la vera fede si ottiene attraverso, come dice Romani, l'ascolto della parola di Dio. Romani X dice che la fede viene da ciò che si ascolta e ciò che si ascolta viene dalla parola di Dio. Quando noi ascoltiamo la parola di Dio produce fede. Dunque, se noi non stiamo nella parola di Dio, cari fratelli, è come non mangiare, come puoi combattere, come puoi correre, come puoi affrontare la giornata se non fai una colazione o un pranzo. Dunque, la fede, la parola di Dio, grazie a Dio che abbiamo la sua parola, cosa fa? Produce fede. La fede è la certezza di cose che non si vengono. E anche se la fede che tu hai in quelle promesse di Dio è piccola, Dio lavorerà comunque sia. Perché il Signore non è che sta mettendo un metodo dice, tu devi venire fino a qui. Dice, devi avere fede. Sia poca, sia tanto. Lui onorerà quella fede e ti incontrerà al tuo livello di fede. Perciò, quando la paura viene a bussare la porta di casa tua, o dalla mente tua, noi non dobbiamo farla entrare. Non dobbiamo, invece, attaccare lo spirito di paura con una mente consapevole, disciplinata nelle promesse di Dio. Come fece Gesù. Quando Gesù fu tentato, il diavolo lo tentò e il Signore lo contrastò con che cosa? sta scritto che. È la stessa cosa che noi. Quando abbiamo queste paure, sta scritto che. Mio padre mi fa delle promesse. Quando la paura ti dice, i miei figli si troveranno nei guardi e Dio li ha abbandonati, rispondi con la fede nella parola di Dio. La parola di Dio dice, i miei figli, invece, saranno potenti sulla terra. Quando non dormi per il domani, paura dei dati, che non puoi trovarti in posti, hai paura di trovarti in posti chiusi, tanti di panico, dichiara con fede che il Signore ha accampato intorno a me i suoi angeli. Ricordiamoci, contrabbattiamo quelle paure con le promesse di Dio. Quando hai paura di persone che vogliono il tuo mare, o vogliono il mare della Chiesa, rispondi con la parola di Dio, le promesse di Dio, che Dio dice che lui è geloso per me, è geloso per noi, come la pupilla dei suoi occhi. Contrastiamo la paura con le promesse di Dio. Quando tu hai paura di realizzare i tuoi sogni, i progetti, ciò che hai nel cuore, però hai paura delle difficoltà e sforzi, specialmente in questa nazione che ci troviamo, cosa dice la parola di Dio? affida al Signore le tue opere e i tuoi progetti li avranno successo. Guarda, questo non è solo per noi, queste sono cose che possiamo portare ai nostri vicini. Perché il tuo vicino dici, guarda, avrei paura di fare questo, ho paura di questa situazione, di aprire un'attività. Ok, guarda, sai, questo è per me, potrebbe essere per te. Queste sono le promesse di Dio. Hai la scelta di ascoltarle o non ascoltarle. Quando Dio ti chiama a condividere la Sua parola e ti prende paura di condividere e di testimoniare gli altri, ricordati cosa dice il Signore. Dio, in secondo timodeo, Dio infatti non ci ha chiamati ad uno spirito di paura, ma di forza, di amore e di disciplina. Dio non ci ha chiamati ad essere paurosi nella testimonianza dell'Evangelio. Dio non ci ha dato quel tipo di spirito, ci ha dato un spirito di forza, perché la nostra forza non è in lui, è in lui. C'è potenza nella parola di Dio. Anni fa, nei Stati Uniti, nel 1900, c'era un lago professionista che si chiamava Black Barton. Era attivo. Lui fece 29 furti con successo, senza sparare un proiettile, mascherandosi, mai ucciso nessuno, eppure lui rubava queste copiere che attraversavano gli Stati Uniti e la gente era terrorizzata di questo tipo. Perfino le persone che facevano guardie nel Corriere sentivano il suono e erano terrorizzati, ma non avevano mai fatto niente. Poi entrava, non va e se ne andava, ma erano talmente presi dalla paura e dalla nomina di questo lago che il demone non è a riscatare, è quello che vuole fare la nostra, il nemico vuole fare, il nemico vuole a tenarci con le paure. Perché il nemico mira al suo cervello. Lui, il tuo cervello è conversabile per lui. E le paure che emana e che noi accorgiamo possono indebolirti o possono, le dobbiamo controllate. Ricordiamoci, i pensieri del Signore per noi sono pensieri per portarci pace, benessere e prosperità. I pensieri di Dio non sono per il tuo male, ma per darti un futuro, darti speranza, darti la certezza. Egli ha preparato un bene per te. Geremia 29,11 dice, infatti io so i pensieri che meritano per voi, dice il Signore. Pensieri di pace e non di male, per darti un avvenire e una speranza. Ricordami, Dio vi tiene e ci tiene stretto nella sua mano. Nessun'arma dell'nemico potrà mai prosperare contro di te. E ricordami, se stiamo attraversando un momento difficile, è solo temporaneo, non è per sempre. Io stavo in una conferenza anni fa, mi ricordo che i relatori, non era una conferenza religiosa cristiana, era una conferenza, ma c'è un principio universale che dice che 80% delle cose di cui noi ci preoccupiamo non avverranno mai. 10% delle cose che avvengono e che ci preoccupiamo che avvengono, beh, non sono così brutte quanto una mezza mano. E quel 10% che rimane, se capita quello che noi abbiamo ottenuto, riusciamo ad andare avanti. Non siamo mai schiacciati totalmente di questo. Ora, se il mondo dice questo, ma quanto più possiamo dire noi che abbiamo le promesse del creatore, che ci sostiene, che tiene unite ogni molecola del nostro corpo, che ci dà respiro, ci dà vita, ci dà animali, nutre il creato, il cielo, l'universo. Lui fa queste promesse verso di noi. Dunque, abbiamo un'arma letale contro la paura. Dunque, fratelli e sorelle, quando la paura bussa la tua mente, oggi, domattina, prossima sera, ricordiamoci, ricordiamo alle promesse di Dio, affrontiamo il nemico con le parole di Dio, perché il Signore riceve gloria in questo. E' Dio che riceve la gloria in tutto. E noi siamo i beneficiari di queste sue promesse, perché siamo con l'indul in Cristo. Queste promesse, questo salvagente che Dio tirò al popolo di Israele, erano accessibili a tutti, ma non tutti vogliono ascoltarli. C'erano delle persone che si rifugiarono al Signore, ma da gran parte rifiutò. E un popolo di Yassiri entrano, li portarono via, desolarono il paese. Ma Dio continuò a avere pietà verso il suo popolo, perché Dio rimane fedele al suo nome. Aveva fatto un patto, e Dio rimane fedele a quel patto. Malgrado anche il popolo fosse infedele, Dio rimase fedele, che rimarrà fedele al suo patto. Queste promesse sono per tutti coloro che hanno ricevuto Cristo. E questa è la domanda che vorrei fare oggi. Adesso è questo. Sei tu certo di appartenere a Dio con figlio? Hai ricevuto la remissione dei tuoi peccati per la sola fede in ciò che Dio ha fatto nel suo figlio. Hai ricevuto lo Spirito Santo. Sei stato battezzato nel nome del Signore Gesù Cristo. Hai confessato il Gesù Cristo con il tuo Signore. Sei all'opera per il Signore. Questi sono dei segni che noi apparteniamo a Dio. Siamo forti, siamo incoraggiati. Perché quelle promesse, cari fratelli e sorelle, sono per noi, sono per la famiglia di Dio. Non dobbiamo tenere, non tenere. Io sarò con voi, anche se passassi delle acque. non annegheremo. Perché? Perché il Signore ci ha attraverso il Signore. E' una cosa inviolabile. Dio lo manterrà sotto il mondo. Però c'è una promessa, diciamo, c'è una paura che dobbiamo avere però. Prima di tutto è che se non siamo in Cristo, lì devi avere paura. Devi avere terrore, un santo terrore. Perché Dio non è Babbo Natale. E' un Dio giusto. E' un Dio di amore, ma è un Dio di giustizia. E le due cose si sono incontrate sulla croce. E, essendo in Cristo, dobbiamo avere timore di Dio. E concludo con il versetto di Deuteronomio, capitolo 10, versetto 12. E ora, o Israele, noi non siamo di Israele, però facciamo parte della famiglia di un Israele spirituale. che cosa richiede da te l'Eterno, il tuo Dio, se non di temere l'Eterno. Il tuo Dio, di camminare in tutte le sue vie, di amarlo e di servire l'Eterno. il tuo Dio, con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima. e di osservare per il tuo bene i comandamenti dell'Eterno e i suoi strutturi. E oggi io ti conosco. Amén. 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 Vogliamo pregare? Amén. 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 Signore, vogliamo ringraziarti di nuovo per la tua parola. E ti vogliamo chiedere, Padre, che queste parole possiamo masticarle nella nostra anima, non solo oggi, ma durante la settimana che durante il nostro percorso. questa vita, finché il Signore tu ci chiami a casa. Grazie, Signore, che abbiamo quest'arma letale, veramente letale, verso i dadi dell'unico e verso i dadi anche della nostra stessa mente. Ti chiedo ancora una volta di benedire questa comunità, di renderla, Signore, sempre più forte nell'amore per te, che possano, Signore, seguire e avere timore di te in ogni passo, in ogni vestito, un timore santo, Signore, non un percorso, perché la grazia che tu hai donato a noi ci libera dalla paura, ci dà uno spirito di forza, uno spirito di vittoria, uno spirito, Signore, che dà gloria al tuo nome in ogni cosa che facciamo. Ti voglio ringraziare ancora per tutti questi fratelli, ti ringrazio per il Marco, per il Genet e la forza che tu gli hai dato in questo tempo e grazie per il sostegno che tu gli hai dato, vi ti prego di benedire loro la vittoria di questa chiesa e che possano, Signore, continuare questo cammino alla tua tua. e nel nome di Gesù ti chiediamo di benedizione su ogni famiglia qui e coloro che non sono. Amen. 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 Grazie.